Entro stasera il centro vaccinale del Campo Coni sarà pronto, poi la palla passerà all'ASL. Parola del sindaco Festa dopo l'ennesimo sopralluogo alla struttura di via Tagliamento. Operai al lavoro per il sistema di illuminazione per pulire e sanificare l'interno della tendostruttura. Anche le luci di emergenza per lavorare fino a tarda sera, insomma, siamo molto orgogliosi di poter mettere a disposizione della città e dell'ASL questa struttura e per noi da domani si può partire, ora chiaramente attendiamo che l'ASL sia conseguenziale. Ma l'opposizione attacca troppa improvvisazione i cittadini ostaggio delle beghe politico-istituzionali e chiede un consiglio comunale ad hoc. Si sapeva da tempo che a metà febbraio si sarebbe partiti eppure ci si è fatti trovare impreparati. Forse si è scelta una struttura non troppo adeguata per questo tipo di operazione, c'era una delle altre molto più pronte e forse anche più economiche da utilizzare, maggiormente rispondente alle necessità delle persone che in questo momento si dovrebbero vaccinare. Intanto non si ferma la scia di morte, nelle ultime 24 ore non ce l'hanno fatta una 69enne di San Martino Valle Caudine e un cittadino di Montella di 79 anni. Ed è allarme a Contrada dove il sindaco De Santis ha chiuso le scuole fino a lunedì. Una decina i casi di positività accertati. Faccio appello al senso civico dei miei cittadini che hanno dimostrato di essere encomiabili nelle settimane e nei mesi scorsi. Oggi è necessario uno sforzo ancora maggiore al fine di contenere al massimo il propagarsi del virus.